ciao altro giro altro regalo e praticamente quando sono già in pigiama e volevo fare una cosa dolce carina ma non un dolce zuccheroso comunque non una cosa pesante banalissimo guardate questa è la ricetta direttamente sul vostro bimbi seguite passo passo le istruzioni e veramente cucinano anche i miei figli c'è anche mia figlia da quando ha cominciato a leggere della prima elementare ho iniziato a cucinare e poi ho fatto queste non so se si vede il fumo mi dispiace che non si senta il profumo e mele insaporita la cannella 20 grammi di burro chiarificato di burro normale va benissimo 400 grammi di mele sbucciate da tocchettine dadini e ci mettete un po di zucchero 30 grammi anche meno e poi un pieno di cannella alta temperatura in 10 minuti avrete un dolce un dessert facile veloce e leggero ciao